E in questo video vado a recensire il PLA più venduto su Amazon per cercare di capire appunto perché è così preferito dall'utenza quali sono i suoi punti di forza e vedere se ne vale la pena acquistarlo Ciao io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale ma se questa è la tua prima volta qui e vuoi ottenere il massimo dalla tua stampante 3D inizia ora iscrivendoci al canale e attivando la campanella così rimarrai aggiornato Qualche giorno fa sto facendo acquisti su Amazon quando nella home mi è comparso a questo filamento 3D prodotto da Tians, non so come si dica Tians credo e ho visto che è il più venduto su Amazon e quindi mi sono chiesto che cosa lo fa preferire rispetto ad altri allora l'ho acquistato ed ecco quindi la mia recensione per cercare di capire appunto quali sono i suoi punti di forza e perché l'utenza lo preferisce Iniziamo quindi con una temp tower nella bobina è riportato un rage di stampa tra i 190 e i 210 gradi e il test è stato effettuato quindi tra i 190 e i 220 con il risultato una temperatura ottimale di circa 205 gradi in realtà non mi è mai capitato di vedere una temp tower così le differenze tra le temperature sono veramente molto lievi con un'osservazione precisa si notano che alcuni difetti sono meno marcati tra i 200 e i 205 gradi pertanto una temperatura fra queste due è la scelta ideale anche se ripeto le differenze sono molto leggere pertanto il materiale si comporta bene nel range indicato passiamo ora alla calibrazione del flow misurando il diametro del filamento in vari punti ne ho concluso una misurazione media tra i 1.72 e 1.75 mm in questo caso non occorrono particolari modifiche in quanto il flow ottimale nel mio caso è stato del 100% o leggermente superiore ecco il modello del thin wall test stampato con flow pieno nonché unico tentativo in quanto il risultato è stato più che accettabile senza alcuna modifica successivamente procedendo con le stampe ho notato che si poteva aumentare leggermente il parametro passando a 1.01 o massimo 1.02 nonché 102% siamo al primo stress test la retraction conclusione lo string con questo filamento è difficilmente eliminabile fattore che causa una valutazione 2 su 5 ecco quindi 4 modelli stampati da 1, 2, 3 e 4 mm di retraction come puoi ben vedere i primi test sono pessimi e unutilizzabili si inizia ad ottenere risultati discritti tra i 3 e 4 mm ma resta evidente lo stringing non mi sento quindi consigliare questo filamento se hai necessità di stampare modelli con dettagli piccoli e ravvicinati l'overhang angle test ha concluso una buona resistenza alla stampa perimetrale con un risultato 4 su 5 il test è stato effettuato stampando un modello che costringe le estrusioni su perimetri da 40 a 75 gradi ho effettuato anche due stampe con risoluzioni diverse da 0.4 e 0.2 mm per notare l'eventuale presenza di differenze nel primo caso possiamo notare che i problemi iniziano da circa 70 gradi anche se più sotto l'aderenza non è comunque il massimo passando alla variante da 0.2 invece possiamo notare che si comporta molto meglio negli angoli più critici e sotto l'adesione è migliore rispetto a prima siamo giunti ora al test del 3D Benchy ho stampato due barchette con layer 8 a 0.2 mm una a 190 e l'altra a 210 gradi per cercare di notare le differenze negli estremi in questo caso la valutazione che mi sento di attribuire è un 3 su 5 parto col dire che le differenze sono quasi invisibili tra le due confermando quindi i risultati ottenuti precedentemente dalla Temp Tower le stampe presentano problemi nelle parti leggermente sospese vi sono dei punti in under extrusion il che indica una leggera inconsistenza del diametro del filamento peraltro il risultato è discreto i dettagli sono ben visibili e non ci sono particolari problemi la situazione è quasi del tutto identica nella versione a 210 gradi dove ci sono forse dei problemi in più in alcune parti della barchetta ma passiamo ora alle proprietà termiche purtroppo però non sono riuscito a trovare documentazione riguardo alla temperatura di transizione vetrosa eseguo comunque il test per vedere come il materiale resiste all'acqua bollente di circa 90 gradi centigradi come mi aspettavo il modello si è deformato alle torsioni ma non ha ceduto e i layer non si sono distaccati essendo un PLA la valutazione si attesta 3 su 5 ultimo test la valutazione delle proprietà termiche la resistenza alla trazione ha misurato un risultato di 233 newton che equivalgono a circa 23 kg un risultato abbastanza scadente che porta alla valutazione a 2 su 5 e quindi un filamento economico facile da stampare con cui si ottengono buoni risultati quindi vale comunque la pena provarlo insomma non è di certo un materiale che costa una cinquantina d'euro quindi che ha delle caratteristiche diverse propone delle stampe diverse ovviamente è un filamento economico ma che è comunque conveniente se sei interessato al filamento in descrizione trovi il link d'acquisto e acquistando da lì percepisci una piccola percentuale che aiuta la crescita del canale e se acquista da lì fammelo sapere nei commenti che ti voglio ringraziare noi ci vediamo alla prossima più in alto trovi la mia playlist dedicata alla stampa 3D più sotto un altro video che potrebbe fare al caso tuo noi ci vediamo alla prossima stammi bene